Come sono i potenziali uscenti ai sensi delle quote 100? Quindi contiamo che nel decreto convertito vi sia anche una norma che consenta la sostituzione immediata nella stessa annualità. Allora in questo caso, avendo fatto numerosi concorsi e godendo di molte graduatorie, siamo in grado di sostituire immediatamente le figure che andranno in pensione. Queste nuove assunzioni consentono anche un ammodernamento dei servizi? Sì, diciamo, tanti vanno in pensione, quindi questo potrebbe creare sofferenza alle varie direzioni, però noi vogliamo vederla come un'opportunità di inserire nuova linfa nel comune, accompagnandola con dei corsi di formazione che facciamo, che si chiamano Welcome on Board, e che consentono ai nuovi assunti proprio di acquisire tutta una serie di informazioni sull'ente, quindi che gli consentono proprio di anche muoversi agevolmente all'interno dell'ente, sulle soft skills, quindi sulla leadership, sulla capacità di porsi anche in maniera critica verso l'ente, di lavorare in maniera fattiva e costruttiva. Un occhio di attenzione per la Polizia Locale? Beh, tantissimi occhi di attenzione perché se andate a vedere i numeri assunzionali, il corpo della Polizia Municipale è quello che gode di più assunzioni, quindi quest'anno sono previste 75 assunzioni a tempo indeterminato, con il Ponte Morandi ne abbiamo assunti più di 150 a tempo determinato, e quindi direi che insomma la Polizia Municipale ha avuto veramente un'infornata non indifferente, che poi erano un po' gli impegni che si era preso anche il Sindaco in campagna elettorale, quello di aumentare il corpo della Polizia Municipale, questo è un obiettivo che come assessorato al personale stiamo portando avanti, su cui stiamo lavorando.